io ho bisogno di gente particolare disposta a fare cose particolari ci siamo capiti io lavoro per i servizi segreti conosco i segreti di tutti i tanghi sotto controllo i tanghi in puglia con la faccia di uno che fa lo studio no però una faccia di un bravo cristiano una brava persona non invecchi mai ma tu tu vuoi portare anche tu vuoi portare anche io ma perché sto soccolo mi trattano tutto male vuoi fare carriera acquista potere ah ah ah